Una magia che non finisce mai e che torna anche quest'anno grazie al Teatro Verdi di Salerno. Il coro delle Voci Bianche è protagonista di un magico concerto di Natale. Sotto la direzione del maestro Silvana Noschese sarà eseguito il classico repertorio natalizio di cui si è avuto un assaggio già in comune alla presenza del sindaco Enzo Napoli. È il decimo anno che abbiamo istituito questo concerto di Natale con i più piccoli, il coro di Voci Bianche del Teatro Verdi di Salerno. È per noi un fiore all'occhiello e siamo veramente felici, ma vedere tutti questi bambini, sono 80 bambini che partecipano sempre all'assiduamento a tutte le produzioni che facciamo. Il maestro Dani Loren che ha voluto fortemente il coro di bambini perché lui nasce come musicista dal coro dei bambini in Israele. Quest'anno c'è anche l'orchestra dell'Alfano I del liceo musicale che accompagnerà i bambini in questo concerto. Sicuramente sarà un momento per scambiare gli auguri con la città e con tutti i bambini della città di Salerno. Sarà solo il primo di un doppio appuntamento che vedrà il bis a Capodanno. Sempre al Teatro Verdi di Salerno l'orchestra filarmonica cittadina augurerà buon anno con due concerti alle 18.30 e alle 21.30 con il consueto repertorio di musica classica. Grazie. Grazie.